Era doveroso in questa giornata della memoria, così la vogliamo definire, ricordare il Pellegrino d'Argenzi, è stata l'unica vittima per fortuna che ha caratterizzato il 16 dicembre del 99 durante l'evento alluvionale che colpì San Martino in quella circostanza. Oggi ci tenevamo a ricordare questa significativa data, semplicemente perché poi San Martino è stato di nuovo colpito da un'altra vicenda alluvionale, quella del 21 dicembre del 2019 e oggi a distanza di 23 anni era doveroso da parte nostra ricordare una persona che ha perso la vita per chiaramente dare il suo contributo in un momento difficile per la nostra comunità. Apriamo e inauguriamo anche questo spazio significativo qui a Torretieri, una zona periferica del nostro comune ma particolarmente popolosa, dove la nostra amministrazione si è caratterizzata per aver realizzato questo importante intervento di riqualificazione, realizzando dei marciapiedi su una delle arterie più trafficate in questo momento da San Martino, Valle Caurito, ma soprattutto realizzando un simbolo, una rotonda con un tocco architettonico importante utilizzando dei materiali poveri che danno appunto il senso della ruralità di questa zona, una ruralità che è testimonianza di una resilienza, di una resistenza a cui le nostre comunità in questo momento, con cui le nostre comunità in questo momento si confrontano. Ma noi immaginiamo chiaramente di poter guardare anche il futuro, infatti una delle frasi invoca anche insomma una prospettiva, un futuro a cui noi dobbiamo chiaramente guardare con attenzione e con innovazione.